Musica Dagli studi di TRC Notizie un rinnovato saluto a tutti voi e dunque di sciacca il nostromo della nave da crociera Concordia incagliata e naufragata a largo dell'isola del Giglio, Vincenzo Sclafani, 55 anni, ha collaborato a salvare numerose vite umane Sclafani lavora a bordo della costa da ben 19 anni, il suo arrivo nella casa in cui vive con la famiglia in Vienna Frank nella contrada perriera è previsto per oggi, ad attenderlo troverà la moglie Milena Oliva e i tre figli il sindaco di sciacca Vito Bono ha annunciato che lo riceverà alla comune per manifestargli la gratitudine della cittadinanza saccenze tra i passeggeri della nave anche un gruppo di lampedusani, gli isolani, una trentina, nessuno è rimasto ferito circa 600 in tutto i siciliani che viaggiavano a bordo della nave tra i dispersi Maria Grazia Trecarico, 50 anni, originaria di Leonforte e Luisa Virzi, 49 anni, originaria di Vienna Stava per fare colazione questa mattina un'anziana di Canicattì quando la bombola del gas che alimentava la sua cucina ha iniziato a prendere fuoco in via Gioberti nell'abitazione di Marianna Facciponte così si chiama la pensionata di 81 anni, sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a tirare fuori di casa e a rendere in offensivo il contenitore di GPL in fiamme a prestare i primi soccorsi all'anziana sono stati gli operatori del 118 la signora è stata ricoverata in ospedale al barone Lombardo solo perché in evidente stato di shock e la polizia ha arrestato Joiko Jovanovic, 24 anni, nomade con passaporto tedesco con l'accusa di essere il conducente del SUV che lo scorso 12 gennaio ha ucciso a Milano il vigile urbano Nicolò Savarino, originario di Campobello di Licata l'indagato è stato fermato in Ungheria mentre secondo gli investigatori stava tentando di fuggire per raggiungere la Sud America l'uomo era trattenuto negli uffici della polizia ungherese quando è stato raggiunto da un mandato di cattura europeo firmato dal GIP milanese Giuseppe Vanore su richiesta del PM Mauro Clevici intanto oggi l'autopsia sul corpo di Savarino i carabinieri di Licata ieri mattina hanno arrestato in flaganza di reato Davide Faraci 18 anni, studente pregiudicato il giovane in atteggiamento sospetto a bordo di uno scooter alla vista dei militari dell'arma ha tentato di allontanarsi, subito raggiunto e perquisito è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana suddivisi in 8 dosi pronte per lo spaccio è scattato alla mezzanotte di ieri in Sicilia lo sciopero dei trasporti ribattezzato Operazione Vespri Siciliani la protesta promossa da Forza d'Urto il movimento nato da autotrasportatori Aias, Movimento dei Forconi, Pescatori, Imprenditori Agricoli e da altre organizzazioni si concluderà dopo 5 giorni alla mezzanotte di venerdì 20 gennaio numerosi presidi dislocati su tutto il territorio regionale questa mattina abbiamo visitato quello presente sulla statale 123 Canigati Campobello Prima giornata del fermo regionale, qual è la risposta che state avendo in queste prime ore della vostra protesta? Guarda, da ieri sera noi ci siamo fatti un po' il giro dei presidi in tutta l'isola io non ho mai visto una grande partecipazione di tutta l'associazione non solo gli autotrasportatori ma sono i commercianti, gli artigiani, gli allevatori, gli agricoltori ieri sera eravamo a Messina, abbiamo visto un sacco di produttori agricoli delle zone del Ragusano delle zone del Seracusano che sono venuti con i pullman a manifestare abbiamo visto che c'è una condivisione di tutta la Sicilia ma la cosa che ci ha sorpreso molto è che abbiamo visto che anche l'opinione pubblica è dalla nostra parte noi faremo del tutto per far capire le nostre problematiche, il perché di questa manifestazione e il perché di questa protesta naturalmente si creeranno un po' di disagi, un po' di cose, però questi disagi è solo per far capire la situazione della regione, in quale stato è Ecco, anche qui a Campobello c'è questo presidio che si sta sviluppando anche in una maniera particolare infatti voi chiedete agli automobilisti di passaggio il loro pensiero a riguardo a questa crisi Sì, abbiamo voluto creare proprio questo punto di sensibilizzazione senza fare colonne di camio, di cose proprio per evitare che molti altri nostri non hanno condiviso questa protesta per far capire il perché della protesta quindi vogliamo spiegare attraverso i volandinaggi e vogliamo anche capire da parte dei cittadini una loro opinione, cioè spiegandoci naturalmente perché ci stiamo fermando Stiamo raccogliendo dei pensieri dei siciliani, almeno provocatoriamente diciamo per la tracciabilità perché noi pensiamo che in siciliano si dice carta scritta leggeri si vuole e allora noi stiamo iniziando da un percorso così a chiedere, invitando proprio tutti i passanti a lasciare il loro pensiero per iscritto abbiamo iniziato con una frase proprio che dà, secondo noi, un significato grandissimo che si dice ogni cosa va fatta a quello verso Poi abbiamo sottolineato le quattro giornate dei siciliani che sarebbero costituite in questa maniera che la prima giornata è che le cose, i pensieri le cugliamo il secondo pensiero va fatto che le cerniamo i siciliani cerniamo queste pensiere il terzo pensiero va fatto che le ragioniamo il quarto pensiero poi le diciamo il quarto giorno quindi sono quattro giornate distinte in questa maniera oggi le raccogliamo, domani le cerniamo, passano domani le ragioniamo e poi le diciamo poi abbiamo lasciato qui la libertà di pensiero a tutti abbiamo sottoscritto quali sono le nostre preoccupazioni contro uno Stato che ha le sue caratteristiche noi siamo dei cittadini e dobbiamo dire la nostra quindi questo è già l'inizio del nostro presidio alla fine speriamo che questo presidio duri bene, tenga duro perché il problema ormai lo dobbiamo risolvere alla base Spostiamoci a Porto Empedocle dove i poliziotti del commissariato stanno indagando sull'incendio che la notte scorsa ha distrutto un'autovettura parcheggiata incontrata a Ciuccafa la vettura una Renault Clio è di proprietà di una casalinga di Porto Empedocle sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme è ancora una notte di fuoco a Gela tre autovetture e due ciclomotori sono stati distrutti dalle fiamme in due incendi divampati la scorsa notte in via Altamira nel quartiero Rivastro e in via Ghiberti nella rione Cantina Sociale nel primo rogo in via Altamira all'1.30 il fuoco ha distrutto una Fiat Multipla di proprietà di un meccanico di 63 anni più vasto un'ora dopo il secondo incendio che in via Ghiberti ha interessato la lancia musa di un dipendente dell'ENI di 41 anni e si è propagato due ciclomotori parcheggiati accanto fermandosi alla parte posteriore di una Fiat Panda di un operaio di 42 anni le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco i quali in entrambi i roghi non avrebbero trovato elementi per poter affermare la natura dolosa degli incendi indagini sono state avviate da carabinieri e polizia salgono così a 17 i mezzi bruciati nei primi 15 giorni dell'anno a Gela, più di uno al giorno una lite tra condomini in uno stabile di via alla torre a Caltanissetta è sfociata nel ferimento di un uomo colpito al braccio con un coltello e nell'arresto del suo aggressore, un pregiudicato di 57 anni, Vincenzo Passaro le accuse nei suoi confronti sono di lesioni aggravate a porto di coltello secondo la ricostruzione della polizia intervenuta sabato sera dopo la segnalazione di alcuni condomini la lite sarebbe stata innescata dalle proteste della figlia di Passaro che protestava con una vicina che abita al piano superiore perché alcuni rumori molesti avrebbero disturbato il sonno del suo bambino dopo un primo alterco tra le due donne è salito anche Passaro in visita in casa della figlia che secondo alcuni testimoni ha tentato di colpire all'addome con un coltello un parente della vicina l'uomo che ha 45 anni è stato raggiunto dal fendente al polso sinistro secondo i medici dell'ospedale Sant'Elia guarirà in otto giorni quando gli agenti si sono presentati Passaro ha tentato di negare ogni addebito ma in casa della figlia è stato trovato il coltello da cucina utilizzato per l'aggressione ancora sporco di sangue per il pregiudicato è scattato così l'arresto in flagranza L'imprenditore di Bivone Ignazio Cutro ha iniziato questa mattina lo sciopero della fame il testimone di giustizia sostenuto dal comitato Cutro dal comitato Paolo Giacone dai familiari del giornalista Beppe Alfano ha iniziato un presidio di protesta di fronte al palazzo d'Orlean sede del governatore della regione siciliana Raffaele Lombardo Cutro ha chiesto di essere ricevuto dal presidente della regione e ha annunciato che il suo digiuno andrà avanti fino a quando non riceverà garanzie relative alla risoluzione della sua vicenda l'imprenditore antimafia ha ricevuto cartelle esattoriali per 85 mila euro nonostante la sospensione del prefetto e sono stati ultimati gli accertamenti dei tecnici della procura di agrigento sulle possibili cause del crollo del palazzo Loiacono Maraventano avvenuto il 25 aprile dello scorso anno adesso la palla passa ai pubblici ministeri che indagano sull'accaduto i quali dovranno accertare se per quel crollo esistono delle responsabilità da addebitare alla negligenza di soggetti pubblici o privati A meno di un anno dal crollo potrebbe essere giunta ad una svolta l'inchiesta aperta dalla procura di agrigento sul cedimento del monumentale palazzo Loiacono ad agrigento infatti i consulenti incaricati dalla stessa procura agrigentina hanno ultimato la scorsa settimana tutti gli accertamenti relative alle possibili ipotesi che hanno causato il cedimento strutturale dell'edificio barocco il consulente della procura ha potuto ultimare il suo complesso lavoro fatto da una serie di perizi che adesso daranno vita alla relazione finale il parere tecnico verrà poi consegnato nelle mani dei pubblici ministeri che stanno conducendo l'inchiesta sul crollo solo dopo questo passaggio i PM Santo Fornasieda e Anna Ciavattini coordinati dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso potranno avere un quadro più chiaro su quanto è accaduto la notte tra il 24 e il 25 aprile scorso in particolare i pubblici ministeri dovranno accertare se esistono eventuali responsabilità da parte dei soggetti privati o pubblici nei confronti dei quali potrebbero essere emessi dei provvedimenti di carattere giudiziario Palazzo Loiacono Maraventano rappresenta uno dei simboli del decadimento del centro storico di Agrigento sito tra via Santa Maria dei Greci, via San Vincenzo e Salita Itria la struttura collassò su se stessa nonostante qualche settimana prima fossero stati realizzati alcuni interventi di consolidamento La politica guadagna posizioni il presidente della regione siciliana rispetto allo studio di qualche giorno fa a Monito Regione nel sondaggio Governance Poll 2011 che misura il gradimento dei politici locali realizzato dai PR Marketing per il Sole 24 ore Raffaele Lombardo è al terzo posto con il 57% il tasso di consenso del Governatore secondo il sondaggio è volatile come la composizione delle variegate maggioranze che negli anni l'hanno supportato nell'Assemblea regionale siciliana record man di voti alle elezioni del 2008 con il 65,8% crollato al 50% nelle edizioni 2009-2010 dell'indagine annuale di IPR Marketing ora torna sul podio grazie a un robusto più 7% realizzato negli ultimi 12 mesi e alle imminenti elezioni Grande Sud intavolerà una piena e costruttiva collaborazione con tutte le forze politiche moderate escludendo accordi elettorali con i movimenti di sinistra è quanto annunciato il leader del partito meridionalista Gianfranco Miciche questa mattina alla riunione del coordinamento regionale allargata ai responsabili enti locali e nove coordinatori provinciali della Sicilia e nonostante il Comune di Racalmuto sia in attesa di un pronunciamento del Governo su un possibile scioglimento per infiltrazioni mafiose dopo il lavoro che verrà ultimato dalla Commissione d'Accesso nella città della Ragione sono iniziate le grandi manovre per la successione a Salvatore Petrotto dimessosi da sindaco proprio dopo le accuse del pentito Maurizio Digati dalle quali però è stato prosciolto da tempo si fanno i nomi di Sergio Scimè per l'Udc e di Giuseppe Brucculeri per il Pdl anche se proprio nel partito di Alfano regna l'incertezza dibattito acceso anche nel Partito Democratico tra le candidature a sindaco che potrebbero esprimere il soggetto politico assumono rilevanza quella del giovane segretario della sezione cittadina Giussi Sintino del segretario provinciale Emilio Messana e dell'ex senatore Angelo Lauricella è stato finanziato dall'assessorato regionale del turismo nell'ambito del POF Estre 2007-2013 il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione urbana funzionale all'ingresso del centro storico di Aragona l'importo stanziato pari a 1.288.893 euro permetterà all'amministrazione comunale di realizzare interventi di riqualificazione dell'intera via Roma l'asse viario che dal bivio conduce al centro storico l'arteria principale della città allo stato attuale nonostante i continui lavori di manutenzione ordinaria risulta fortemente degradata la sezione provinciale della sostampa di Agrigento a un nuovo segretario si tratta di Stelio Zaccaria 53 anni, giornalista professionista e responsabile della redazione provinciale del quotidiano La Sicilia eletto per acclamazione l'assemblea ha inoltre eletto alla carica di tesoriere Anna Maria Scicolone giornalista professionista freelance collaboratrice di diverse testate giornalistiche mentre il vice segretario provinciale sarà Angelo Antonio Palillo componente dell'ufficio stampa della provincia regionale di Agrigento a Sciacca va in scena il funerale del carnevale l'iniziativa è stata annunciata da un gruppo di artigiani e altri protagonisti della festa in maschera con tanto di bara in carta pesta oggi sarà proposto un finto corteo funebre per protestare contro la decisione del comune di non organizzare l'edizione 2012 della festa in maschera per mancanza di fondi una decisione scellerata non si può sopprimere una tradizione ultracentenaria dice Luca Labarbera uno dei promotori dell'iniziativa replica l'assessore allo spettacolo Michele Ferrara purtroppo nel 2011 abbiamo sforato il patto di stabilità il comune deve risanare i conti ma il carnevale di Sciacca rinascerà presto come grande evento culturale e turistico sciopero bianco questa mattina liceo in pedocle di Agrigento gli studenti lamentano il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento ed attendono dal marzo del 2011 il sopralluogo dei tecnici della provincia che dovrebbero procedere con la sistemazione del guasto il problema dei riscaldamenti va ormai avanti da un paio di mesi i riscaldamenti dovevano essere attivati circa due mesi fa ma sia per un problema in parte dovuto alla scuola sia in parte dovuto all'ente provincia che non ha garantito l'attivazione di questi riscaldamenti non possiamo usufruire appunto di questi se pur vero è che il liceo classico in pedocle non è nuovo a questo tipo di problemi in quanto l'anno scorso i ragazzi i nostri compagni del ginnasio hanno scioperato per ben 4-5 giorni appunto per lo stesso problema con questo sciopero hanno risolto attivamente questo loro problema speriamo che anche con il nostro sciopero quest'anno potremmo contribuire a far attivare l'ente provincia al fine di farci dare questo servizio che ci tocca di diritto oggi 16 gennaio del 2012 non abbiamo ancora i riscaldamenti in questo istituto è una cosa assurda che non possiamo completamente permettere e speriamo con questo segno di dissenso che stiamo avendo in questi giorni e in questo giorno in particolare di poter cambiare qualcosa perché noi non ne possiamo più noi non possiamo fare lezioni con 5 gradi in classe noi vogliamo svolti positivi vogliamo i riscaldamenti da subito non fra due mesi quando non ce ne sarà più bisogno iniziano giovedì prossimo a Canicattì i festeggiamenti di San Sebastiano nella parrocchia di San Diego fino a domenica 22 gennaio sono previsti vari momenti religiosi ma anche iniziative con la partecipazione della Polizia Municipale della quale il bimartire è protettore la ricorrenza è curata da quasi 5 secoli dalla confraternita dei Santi Sebastiano e Diego di Canicattì riprendono dopo la pausa natalizia gli spettacoli, gli eventi culturali e di aggregazione sociale giovanile organizzati dal Movimento Cattolico i Seguaci di Maria fondato a Canicattì dal cantautore Sal Marchese gli eventi che proseguiranno fino al mese di maggio e si svolgeranno nel Teatro Don Bosco dell'Oratorio Salesiano si terranno ogni sabato sera prossimo appuntamento il 21 gennaio alle ore 21 con il concerto del gruppo Pop Rock dei Daida l'ingresso è libero adesso lo sport con il basket parliamo della vittoria interna di ieri per la Gaudium Canicattì nella 17esima giornata del campionato di divisione nazionale C di basket maschile i ragazzi di Cocezugno hanno superato per 71 a 63 il Gravina seconda vittoria consecutiva in casa per la Gaudium Basket Canicattì che ha iniziato nel migliore dei modi del nuovo anno dopo aver superato nel primo match del 2012 il Paternò la formazione bianco-rossa si è riconfermata ieri battendo per 71 a 63 il Gravina quindi il fattore pala 7 a Livatino sta tornando ad essere una delle forze della squadra canicattinese che dopo una partenza a Razzo aveva vissuto l'ultimo mese e mezzo di 2011 da incubo con 8 sconfitte su 9 gare disputate la pausa natalizia quindi giovata all'ambiente bianco-rosso apparso rinfrancato e desideroso di dare nuove soddisfazioni al proprio pubblico la vittoria di ieri sudata ma ottenuta con grande determinazione e capabilità permette ai bianco-rosso di raggiungere quota 14 in classifica all'interno di un gruppone composto da ben 10 formazioni racchiuse in 4 punti nel prossimo turno la formazione di Cocezugno affronterà proprio una di queste squadre la Peppino Coccuza di San Filippo del Mela e continua la marcia in vetta alla classifica della polisportiva Mario Mura nel campionato di Serie C2 di basket maschile la formazione del presidente Giancarlo Cigni ha dato un'importante prova di forza sabato sera superando in casa una diretta avversaria per la promozione la studentesca Calicata i bianco-rossi hanno superato la compagine giallo-blu per 77 a 64 passiamo al calcio nel campionato di eccellenza si conferma in vetta alla classifica il Ribera la formazione agrigentina ha superato ieri per 1 a 0 il Mazzara tra le mura amiche cede il passo invece il Camarat sconfitta per 2 a 0 dal Monreale si riaffaccia nelle zone nobili della classifica l'Acargas che ha superato per 2 a 1 nel San Giovanni Gemini nel campionato di promozione il Canicati Calcio ha ottenuto sabato pomeriggio la seconda vittoria di fila superando al Carlotta Bordonaro per 1 a 0 il Salemi per i bianco-rossi si tratta del terzo risultato utile consecutivo che permette adesso di guardare con più fiducia al prosieguo del torneo sorride anche il Canicati 1928 che nel campionato di prima categoria ha ottenuto domenica in casa la prima vittoria del 2012 è stato un successo sudato quello ottenuto dalla formazione di Mister Foti che ha superato per 1 a 0 il Bivona momento d'oro nel calcio a 5 per le due formazioni canicattinesi in serie C2 il Canicati 5 si trova in piena corsa playoff dopo la vittoria casalinga contro la nuova Trinacria Gela per 5 a 3 in serie D vince ad Agrigento contro il Raffadali per 6 a 1 la PGS Domenico Savio che al momento occupa il terzo posto in classifica a sole due lunghezze della seconda piazza occupata al momento dalla futsal Caltanissette con lo sport è tutto per questa edizione arrivederci alla prossima Caltanissette